Buongiorno e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia nei prossimi giorni, in particolar modo nella giornata di domenica 30 e nella giornata del primo di maggio, quando una forte perturbazione di origine nord-atlantica proveniente dal nord Europa dovrebbe scendere sull'Europa centrale e l'Italia. Infatti dovrebbe inviare calde e umide provenienti dal nord che poi, grazie alla formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure, che trarrà a sé aria umida e piovosa, dovrebbe generare temporali molto intensi e piogge molto intense su tutto il nord e il centro. In particolar modo al nord-ovest e sul versante tirrenico avremo piogge molto intense, grandinate di grosse dimensioni, nubi fragili e forti colpi di vento. Avremo anche nevicate molto intense sulla regione Valle d'Aosta, oltre i 2000-2200 metri, con accumuli fino a 50-60 cm nella zona di Cervigna e del Monte Bianco.